Siamo con Gianni Berrino, Assessore al Turismo di Regione Liguria. Assessore, l'esperienza è il futuro del turismo? Sì, c'è tutta una parte di Liguria che deve scommettere, una parte già scommessa, un'altra parte deve scommettere sul turismo esperienziale perché noi siamo una terra magnifica, fatta certamente di mare ma anche di un'introterra fantastico che offre anche, oltre che panorami, anche prodotti magari inaspettati per i più della Liguria. Però per scoprirlo come si deve e farla diventare una risorsa turistica bisogna avere la capacità di raccontarlo e quindi uno storytelling che racconti il perché, il per come, ci sono i vigneti, ci sono gli oliveti, ci sono piantagioni particolari, ci sono le pecore brigasche, insomma c'è tutta una serie di prodotti che in Liguria magari non si aspettano e poi bisogna anche fare l'esperienza, ed è quello lì il turismo esperienziale, di vedere i prodotti come si coltivano e soprattutto assaggiarli come vengono utilizzati ad esempio per le nostre ricette. E quindi creare un prodotto esperienziale come si dice ora fa sì che il turista possa una volta venuto in Liguria provare un'esperienza nuova e raccontarlo, soprattutto se è raccontato bene, farlo venire in Liguria per provare l'esperienza del nostro bellissimo mare, del nostro bellissimo entroterra.